Vai a salutarla! E' qui l'after party, eh? E' qui l'after party, siii! Questo è davvero l'after party di pizza, siii! Siii! Amore, recuperalo! Ciao ragazzi, sono Fedez e sono due giorni che mangio frullati. Frullato leggerino! L'allenamento di Chiara consiste nel prendere tutte le pietanze sul tavolo e dire ma posso mangiarlo questo? Questo posso mangiarlo? Bravo amore! Ti do una curiosità, sapevi che la cannella è termogenica? L'hai detto io! Cosa vuol dire termogenico? Che accelleva il metabolismo! Dei? Dei? Dei cosa? Comunque il buon Federico sta rispolverando i suoi trick da montatore e sto preparando un vlog di quest'estate su youtube come ai vecchi tempi Chiara delle mani a tempo Così succede qua amore? Così succede? Così succede? Brava! Sì! No! Poi ha fatto adesso 100 plus papi! Oh, steroidi! No! Ragazzi non usate gli steroidi! Vengono le tessere! ho scoperto che c'è una coppia di indiani che tagga sempre chiara nelle foto volevo dire che sono un vostro fan cazzo volevo dire una cosa mi sono dimenticato hai ragione secondo me il pollo